Parliamo di Vignate e Louisiana con il mister del Vignate Alessandro Furlanetto. Una gara vinta soprattutto grazie alla prova nel primo tempo, nel secondo tempo invece vi siete difesi senza correre grandi pericoli. Sì, non è stata una delle nostre partite migliori anche perché la squadra avversaria ci ha messo in difficoltà, non hanno mai creato tanti rischi, chiaramente non abbiamo chiuso la partita nel primo tempo per cui la sofferenza ci stava. Nel secondo tempo si poteva fare qualche ripartenza magari fatta meglio? Assolutamente sì, si poteva fare, non siamo riusciti a ripartire nel modo giusto, peccato perché gli spazi per attaccare c'erano, però insomma ci guardiamo questa vittoria dopo tanta sofferenza in questi mesi e per cui sono contento. Cosa che ne è piaciuto particolarmente della tua squadra? Lo spirito, oggi lo spirito, direi che non è che abbiamo fatto una delle nostre partite migliori, però lo spirito di questa squadra, io lo ripeto sempre ai ragazzi, secondo me hanno qualcosa dentro che alla lunga uscirà e ne sono convinto di questo. Per arrivare dove? Per arrivare dove? Noi giochiamo partita per partita, chiaramente 24 punti con una partita ancora da recuperare, siamo lì per cui l'idea è di fare bene, di fare un punto in più dell'anno scorso, l'anno scorso ne abbiamo fatti 40 e abbiamo di fare 41 punti.